Ciao ragazzi, ben ritrovati amici di OSS Fanta con un video importante che riguarda una delle trattative più importanti certamente di tutto l'anno solare e che riguarda un Irvigo di grande livello per il nostro calcio e in particolare per la Juventus che ha preso Dusan Vlaovic. È tutto fatto, accordo totale raggiunto non solo con la Fiorentina, ormai da giorni un'operazione che sappiamo essere di 75 milioni di euro bonus compresi, dunque tutto ok tra i due club dal punto di vista anche del pagamento del giocatore, sarà un trasferimento definitivo, dunque non una formula alla Locatelli o alla Chiesa da portarsi per anni ma una formula che garantirà al più presto i soldi alla Fiorentina senza vincolarli a degli obiettivi ma garantiti, quindi la Juventus verserà questi soldi alla Fiorentina. In realtà la cifra definitiva è intorno ai 65-68 milioni con dei bonus per arrivare a 75 ma cambia poco nella sostanza per la Fiorentina. Si fa cassa con Dusan Vlaovic, Fiorentina che era molto preoccupata dalla possibilità di perderlo magari a zero nel 2023 visto che il giocatore ha avuto tante possibilità all'estero, in primis l'Atletico Madrid, ultima settimana dell'agosto scorso, questo atletico che è arrivato ad offrire una cifra intorno ai 50 milioni garantiti, 10 di bonus alla Fiorentina, anche un 10% sulla rivendita. Vlaovic non ha voluto sedersi a un tavolo con l'Atletico di Madrid, era l'agosto scorso, a gennaio invece ci ha provato l'Arsenal del direttore Edu Gaspar con un'afferta che la Fiorentina avrebbe accettato, poteva includere anche il riscatto di Torreira, i rapporti tra club sono ottimi ma Vlaovic non ha mai voluto neanche sedersi a un tavolo. Con l'Arsenal ha voluto invece farlo con la Juventus che è stata, va detto, bravissima a livello strategico ad inserirsi in questa operazione, a mantenerla con i fari spenti nei momenti chiave, poi quando è arrivata un'apertura da parte della Fiorentina a negoziare anche con la Juve, la Fiorentina ha provato in ogni modo ad evitare questa soluzione, a poter avere questo tipo di problematica, sappiamo che a livello ambientale, insomma i rapporti tra Fiorentina e Juventus ovviamente a livello di tifoserie, di rivalità storica, non sono dei migliori per usare un eufemismo e quindi la Fiorentina sperava di vendere Vlaovic all'estero ma ha capito che Vlaovic non andava ad accettare queste offerte, si rischiava di perderlo a zero o comunque a cifre super basse, ecco perché la Fiorentina non ha voluto essere ostaggio di Vlaovic ma soprattutto perché la Juventus è stata brava ad aspettare, nel via libera è arrivato dalle parole di Barone nei giorni scorsi la dirigenza della Fiorentina e lì si è mossa la Juve, affari spenti poi con questa offerta messa sul piatto nella giornata di martedì diventata poi realtà negli accordi definitivi di queste ore. Vlaovic alla Juve, l'accordo è raggiunto, c'è anche l'accordo col giocatore, naturalmente non è un dettaglio quando si parla di questa operazione, con il giocatore e con i suoi agenti, Darko Ristic, con tutta l'agenzia che cura gli interessi di Dujan Vlaovic, che è stata protagonista di tante voci in questi mesi, sappiamo che l'Arsenal ci ha provato più volte ma gli agenti di Vlaovic non avevano intenzione di aprire un dialogo, sappiamo che tante squadre erano interessate ma Vlaovic non è mai stato attratto da queste possibilità, era attratto dall'idea di andare alla Juventus, perché? Perché può diventare il volto del nuovo progetto della Juve per il presente e per il futuro, perché può giocare la Champions League da subito, una cosa che ad esempio Tottenham o Arsenal non potevano garantirgli quantomeno per questa stagione e c'è da vedere cosa accadrà a livello di classifica per la prossima, mentre la Juve già dal prossimo mese di febbraio gli consentirà di giocare in Champions League con la propria maglia nella sfida contro il Viglia Reale, vedremo se poi la Juventus andrà avanti, però insomma per Vlaovic è subito un'opportunità importante, non è una scommessa ma è una garanzia e non è un dettaglio. E poi la sua volontà di mettersi in gioco ancora in Italia, insomma davvero un'operazione sorprendente per tempistiche, perché tutti si aspettavano una Juventus pronta a scendere in campo per l'estate, la Juve era pronta a inserirsi nella corsa Vlaovic dal giugno 2022, ma ha scelto di anticipare quest'operazione per evitare che altre squadre potessero fiondarsi su di lui. Sappiamo che sarà un'estate di attaccanti, Bappé e Oland che in Manchester City cercherà una punta, che la situazione di Lewandowski va ancora risolta col Bayern Monaco, ci sono tanti punti interrogativi, tante squadre che cercheranno una punta, tanti problemi per chi andrà a prenderle a livello di costi ma soprattutto di concorrenza, ecco perché la Juve ha scelto di anticipare i tempi, ecco come nasce la manovra all'oscuro di tutti per poi arrivare alla proposta, all'accordo, alle strette di mano, all'ir we go, Dusan Vlaovic alla Juventus, per il fantacalcio è un cambiamento importante, certamente Dusan Vlaovic era la stella polare della Fiorentina, è stato un giocatore straripante nell'ultimo anno solare, lo dicono i suoi numeri, lo diciamo certo noi, sapete su Sefanta quante volte vi abbiamo raccontato l'importanza, consigliato anche il fattore Vlaovic essendo la stella della Fiorentina, alla Juventus chiaramente c'è un peso differente, c'è tanto altro attorno su cui graviteranno poi anche le aspettative di Dusan Vlaovic su Dusan Vlaovic, ma quello che è importante da capire è certamente chi calcerà i rigori, sappiamo che Paolo Di Balla è lo specialista della Juventus, ma Vlaovic si è dimostrato, ultimo cucchiaio a parte, gran rigorista alla Fiorentina, quindi c'è certamente anche da chiarire questo punto dei rigori in casa Juventus, c'è da capire che Juventus vedremo, quindi chi giocherà attorno a Vlaovic, quanto la qualità di chi giocherà attorno a Vlaovic potrà aiutarlo a rendere come rendeva la Fiorentina, dove c'era un'intera squadra pensata attorno alle caratteristiche del centroavanti serbo, quindi sarà importante capire in termini di gol, di ambientamento, di cambiamento nel gioco, perché il gioco italiano ha indiscutibilmente valorizzato Vlaovic, adesso con Allegri sarà un'altra tipologia di gioco, quindi come riuscirà da subito ad incastrarsi in questo tipo di esigenze, insomma ci sono un po' di punti interrogativi, il consiglio comunque al fantacalcio è di continuare a puntare naturalmente su Dusan Vlaovic, non farsi prendere troppo dall'allarmismo per un cambiamento, per il passaggio alla Juventus, che può certamente rappresentare una scossa per Vlaovic, una rivoluzione fantacalcistica, ma protegge i fantallenatori da un grande spettro, quello di una cessione all'estero, che è stata comunque, come detto, concreta, e che la Fiorentina ha evitato portandolo in realtà alla Juventus, quindi non è stato certamente un successo per la Fiorentina dal punto di vista della rivalità, lo è stato dal punto di vista economico, fare cassa in questo modo, ma chi gode è la Juve, e i fantallenatori potranno certamente godersi ancora Vlaovic a lungo in Serie A, dunque ragazzi, tenetelo, l'obiettivo è assolutamente di andare avanti con lui, a meno che non vengano ad offrirvi un attaccante che può dare magari delle garanzie dittate dal tempo, perché la forza di Vlaovic è difficilmente paragonabile oggi ad altri attaccanti, ma il tempo che ha speso un Ciro immobile alla Lazio, ad esempio, è chiaramente da garanzie magari maggiori sull'impatto nei primi sei mesi, ma da questo punto di vista non ci sono tanti altri attaccanti con cui poter pensare degli scambi o simili, forse Lautaro Martinez all'Inter che però ultimamente sta andando un po' più su alti e bassi, ma nella parte finale di stagione sappiamo quanto l'Inter possa avere la possibilità, soprattutto scavallato questo momento di calendario, di incidere ancora di più a livello di gol con i suoi attaccanti, ma Dujan Vlaovic rimane, Dujan Vlaovic rimane l'attaccante che può fare sempre la differenza al fantacalcio per la Juventus che ha chiuso questo colpo, Vlaovic alla Juve. E adesso, ragazzi, pronti a scoprire tutte le prossime carte di questo calciomercato insieme. Un saluto da Fabrizio Romano, SS Fanta, a presto, ciao!